Meno di 150 euro per un tornio per la ceramica che funziona? Waaaaaah! Non è possibile. È possibile. Benvenute a Tutte e Tutti, io sono Enrico Tramacere, creatore di terraie ceramiche. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nessun video di quelli che pubblicherò su quella che è la mia più grande passione, ovvero la ceramica. In questo video voglio parlarvi di questo piccolo tornio che è costato solo 130 euro, comprese le spese di spedizione, un prezzone incredibile. E dove si trovano questi torni? Questi torni si trovano su Amazon, io l'ho preso su aliexpress.com, che non è nient'altro che l'equivalente cinese di Amazon. Vi lascio tutti i link nella descrizione di questo video. Questo qui è arrivato da un fornitore della Repubblica Ceca, ci ha messo una settimana, è stato velocissimo ad arrivare, senza nessun ammacco, senza nessun problema. Perché voglio farvi un video su questi torni di fabbricazione cinese? Perché stanno letteralmente spopolando su internet e moltissima gente si chiede se ne vale la pena, se è vero che per un prezzo così basso è possibile acquistare una macchina con cui ci si può divertire, con cui si può creare veramente un oggetto. La mia risposta è sì, ne vale completamente la pena, sono delle bellissime macchine, dei bei torni che sono ottimi per iniziare, per lanciarsi nel mondo della lavorazione della ceramica al tornio. Chiaramente come qualsiasi strumento ha i suoi pro e i suoi contro. In questo video voglio farvi vedere un po' di caratteristiche di questo tornio, provare a fare qualche oggetto e capire quali sono i punti deboli e i punti di forza di una macchina che comunque costa così poco che fa venire veramente l'acquolina in bocca. Quello che sicuramente salta all'occhio è che questo tornio è leggermente piccolino, basso, è alto all'incirca 40 cm, largo 30 cm, ma non è un grossissimo problema. Se volessimo lavorarci in piedi lo possiamo appoggiare tranquillamente sul tavolo e siamo all'altezza giusta, ci sono anche dei piccoli piedini per regolare un po' l'altezza. E altrimenti se vogliamo lavorarci da seduti l'unica cosa che dobbiamo fare è costruire un piccolo supporto per rialzarlo un po'. Allora questo tornio ha il pulsante, l'interruttore è qui, è un tornio che appunto va con la 220 di casa, la corrente normale che abbiamo a casa e viene fornito col cavo che ha una presa asciuco, quindi nessun problema. E qui troviamo la leva dell'acceleratore che funziona molto bene, è un'accelerazione e decelerazione molto fluida che non dà nessun problema durante la lavorazione. Su questo tornio riusciamo a centrare senza problemi anche 3, 4, 5 kg di argilla, è un motore da 250 watt bello solido, bello robusto, infatti possiamo anche vedere che facendo anche pressione comunque non si frena. Una bella caratteristica di questi piccoli torni è anche che hanno l'interruttore per cambiare direzione, quindi possono girare sia in un senso sia nell'altro senza nessun problema. E adesso diamo un'occhiata all'interno. Allora, come possiamo vedere all'interno del nostro involucro di metallo troviamo il nostro motore da 250 watt, un poco di elettronica che serve sia per regolare l'accelerazione sia per regolare il cambio di direzione del piatto. Il nostro motore è collegato al volano tramite una cinghia e come potete vedere il sistema di accelerazione non è nient'altro che quello delle biciclette elettriche, probabilmente usano gli stessi pezzi per costruire anche qui. Vedete proprio che la manopola dell'acceleratore, delle bici elettriche, fa muovere il volano tramite il motore e tramite la cinghia. Bene, dopo aver elencato tutte le caratteristiche principali di questo economicissimo tornio non ci resta che foggiare un pezzo insieme e vedere un po' quelle che sono le sensazioni che ci dà appunto lavorare su questo tipo di tornio. Vediamo un poco. Grazie a tutti. come avete visto non c'è stata nessuna particolare difficoltà nel tornire un cilindro su questo tipo di tornio per il costo che ha ne vale assolutissimamente la pena soprattutto per chi vuole muovere i primissimi passi nella lavorazione della ceramica al torno se vi è piaciuto questo video mettete un like iscrivetevi al canale e date un occhio al mio sito web www.terraie.com vi ringrazio ci vediamo al prossimo video sulla ceramica